Dottoressa Monti, oggi presentate questa bella iniziativa, questo libro che parla dei problemi della malnutrizione, della denutrizione, ma anche dei disturbi alimentari dei ragazzi, dei ragazzi abruzzesi e non solo, anche perché la vostra pubblicazione è stata illustrata e censita da un importante giornale scientifico americano. I disturbi alimentari ancora una volta hanno dimostrato che specialmente per l'Abruzzo, noi abbiamo due zone completamente divise, la zona dell'Aquile, del cratere e del terremoto, purtroppo il terremoto ha inciso moltissimo su tutto, e la zona fuori. E la differenza di questi disturbi alimentari fra i ragazzi dell'Aquile e del cratere e gli altri ragazzi dell'Abruzzo è notevole. Professoressa, come UNICEF voi siete sempre impegnati in iniziative a favore proprio dei bambini più poveri, dei bambini malnutriti del mondo, state preparando qualcosa in vista del Natale? Per noi i bambini sono tutti uguali, tutti meravigliosi, belli, tutti meravigliosi, bisognosi anche dell'affetto delle persone. È logico che in Africa la morte infantile aveva raggiunto dei livelli terribili. Quando io entrai nell'UNICEF nel 1979 morivano 50.000 bambini al giorno, quindi una cosa veramente pazzesca. Oggi il numero si è abbassato notevolmente, però c'è sempre questo grande bisogno.